Bellissimo, a me hanno fatto delle domande molto precise, particolari, interessanti, divertenti, per cui è stato proprio un bellissimo scambio. Poi loro sono molto curiosi, alleggia questa bella energia, molto appassionati a questo mondo. Mi hanno fatto venire fuori anche delle cose inaspettate, mi è piaciuto molto. Ma perché la comicità è efficace perché tutto raccontato con leggerezza e con ironia è sempre più incisivo, ti rimane nella mente molto più di un messaggio fatto in maniera tragica. Lo tendi a rimuovere, insomma, quindi invece l'ironia la recepisci meglio e ti rimane molto di più. Per cui anche i messaggi importanti, messaggi sociali, messaggi di qualsiasi natura, se li fai con una leggerezza e con un pizzico di ironia, arrivano sicuramente meglio e si ricordano sicuramente di più. Ebbè, è quello che arricchisce molto. Esplorare vari generi ti dà la percezione di quanto sia importante proprio riuscire a indagare nei vari settori. Per un attore, per esempio, è importantissimo fare la televisione, il cinema e il teatro. Per cui quando indaghi su altre cifre ti arricchisci sempre di più. La curiosità è fondamentale, in questo mestiere è fondamentale. Più sei curioso e più crei, per cui è determinante.